E' vero tutti ragazzi, bentornati su Clash Royale In questo video vi porto un altro video di Clash Royale perché so che a tanti piace questo gioco e a tanti, e tanti, tutti quelli che fanno questi video di Clash Royale fanno tante visualizzazioni quindi faccio vedere tante visualizzazioni di Clash Royale In questo video vi porto un altro video di Clash Royale e poi vi ho trovato anche questi qua i Spaccamuro che a me, devo dire, mi piacciono tantissimo perché infatti sono epico e quindi sono forti e dicevo, a base del danno quanto fanno, ok? E quindi ragazzi, cosa direi? Ah, abbiamo, hanno detto come nome le CFC ragazzi, che direi, andiamo in battaglia Allora, partiamo partiamo subito con una sfera focata poi delle frecce gli Spaccamuro li mettiamo qua direi che sei un po' che tirar qualcosa in calca, me forse questi qua li attaccano Ora, dei sgherry andiamo a fare, a me fatta tutta la linta muccava un po' bella, le aziende ma non lo sanno però un po' oh 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 hanno messo un Gobby in Gobby, una disa una bomba porca vacca ce l'ha anche fatto una porca vacca vogliamo battere questo brutto spruzzo questo spruzzo dai cavaliere fate l'invento di cavaliere ce l'hanno già affondato ok ah oh mi dimentico sempre di mettere il cavaliere che pirla che c'è no ma guarda questi qua che navi che mettere il cavaliere lì questo cavo ok una sfera infocata su mettiamo il cavaliere dovremmo battere senza troppe difficoltà ok ora mettiamo oh 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 buono sembrava che fosse morto ormai no è una 126 di vita sta torre oh oh ok vieni in base mettiamo un po' di prezzi poi mettiamo e mettiamo lo metto il gigante e lo metto un po' di danno ok o meno così non passano ancora un po' di tempo perché non vai avanti cavaliere mettiamolo qua è ancora una pizza è ancora pizza è già fatto questa voglia spaccamuro ah manco il tempo di oh sta facendo male sta facendo male Stavolviene.. Stavolviene.. Ma lo ho perso! Non siamo consigli a giocarti a me Che non ho giocato male Noi ragazzi quindi C'è che bravo di rilasciarmi L'ha fatto controllo Gli allusamenti però Ma è il mio controllo di rilasciaro Non è stata così passata Stavolviene di rilasciarmi E' stato con le giocazioni E' un'altra cosa Ok? E' così che si blocca If so, devo dire che entro ciò di essere o��고, quello che era costante, могi accストare un incontro così ciò di più, quindi le appanze suoi appoggipletnie, il primo giystimento. Come taglio un walkman che vanno a fare. Non si ciò 1969 oggi, noi riesce di trovare, ok, è ucciso allora la palla di fuoco la metto a destra la accendi qua la palla di fuoco la metto a destra la palla di fuoco la metto a destra la metto a destra la metto di spacco muro sempre puo la palla di fuoco sembra di oggi 333 ma anche una cazione aspetta iliancino è un super cavaliere non lo farò poi scattiamo di mettere la palla in su qua lancia la bomba è veloce vincere la bomba ma non è detto non è detto non è giusto non è giusto non è giusto non va non si sa non si sa non si sa benissimo no l'ho distrutto gigante veloci Sì, mi ha vinto, mi ha vinto, eravamo due a uno, eravamo due a uno per noi. Per le 70 che mi invitavano a questa torre, potremmo fare due a due, abbiamo bisogno di far tutela, non mancava un secondo e per mezzo secondo non perdevamo. Ok? Ahahah! Non c'è da che si fa, non c'è da che si fa, non c'è da che si fa. Non c'è da che si fa, non c'è da che si fa. Oh grana! Questo cos'è, non c'è da che mi rende un gietto, non vattene un giudadino e mezza. Tanto, non tanto, però, cavaliere, frecce, oh, mini pecca, ok, questo quello lo conoscevo già. Senti se riesci a fare il post perché sei l'euro, non faccio la telefona. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Noi facciamo, io ragazzi vi saluto perché oggi il video lo finisco qui, vi saluto e Bella.